Ma questo ciubotto è perché devi fare il video sulla moto? Sì Vedi come sono taro che taro, aggressivo Ci sta il ciubotto Ciao ragazze Ciao ragazze Eccoci qui oggi con un nuovo video In realtà come ben sapete oggi doveva esserci un video di EUI Ma ho deciso un po' di cambiare la rubrica di questo giorno E quindi ogni venerdì ci sarà un video random Quindi può essere un challenge, un DIY o qualcos'altro Quindi sarà un po' un video sorpresa ogni venerdì Oggi siamo qui per fare l'emoji challenge Sì Quindi se praticamente non sapete come funziona Neanche noi No, neanche tu No, neanche io Praticamente Che poi tu compari sempre nei video challenge Eh, ci sarà un perché Devi comparire preso in qualche video tutorial Noi E poi faremo un level up, dici no? Ebbene no La specialità è un tutorial quindi Ci sta Praticamente questo video challenge consiste nel A turno Una persona deve mimare un emoji E l'altra persona deve indovinare di quale emoji si tratta Quindi non ci perdiamo tanto in chiacchiere E cominciamo Dobbiamo scegliere l'emoji Allora, armiamoci di telefono Aspetta E togliamo la suoneria a qualsiasi altra cosa Ah, hai ragione Ok, ci sono I capelli attaccati No, aspetta Ok Spero non farmi vedere Quale è quella che si va Vai Ma che hai? Ti ho qualche icchi Ti ho fatto a te Devi chiamare il 176 Sì, il 177 Vabbè, dai Rifalla Ma che cazzo è? Non mi dire che è il testo Ma l'hai fatta pure male Se io l'ho indovinata perché ho smirciato sul telefono Eh dai! Ma l'hai fatta malissimo Perché tu come la fai? Così Non la farei proprio Ah, appunto Mi darei proprio Va bene Ora Ok Vado a vedere anche allora Com'è? Eh beh, io una volta la posso fare Non te lo devo fare No, no, come no Questo che ride? È lo stesso E la giuria ci dice di? Ma manco tu lo sai Sta qua È lo stesso Sì, sì È questo Ah, te è più grande È l'iPhone 6 Ecco perché Sì, è quello Vigino alla mascherina Sì Ok Ma che cos'è? E guarda, no? Ma voglio prima capire Che faccio stai facendo Perché Ma che cos'è? Ma guarda, vengono tutti i capitoli? È certo Tutti i capitoli? È certo Sì, vai Lo troverai sicuro Il pulcino? No, avevi fatto tipo così Ah, sì, è vero Hai ragione Dai, trova in quella sezione Che c'è le bracciano così Che sto aiutando tanto Riguardami Ho il polipo Riguardami Non si beve più Fino a farci la fessa Sì, ma tutto il corpo Devi vedere Ah Con le gambe No, no Le gambe no Ah, è tutto il corpo Sì, ve lo dico Un busto Il pupazzo di neve Bravo Il pupazzo di neve Ti ho aiutato Questo non vale Ma non c'entra proprio niente Se guardate In sovrapensione In sovrapensione Allora, se abbiamo dichiarato guerra Ora Devo fare una cosa io Devo fare Stai spiegando È una bastardona Sta spiegando Questa è tutta Ma dove fare le faccine mongoloidi Che fanno così È troppo semplice Quale? Questa che sta scritto dentro No Ma che cazzo E quella stai facendo? No Questa? No Questo È il gatto Così E le orecchie Perché c'è il baffo E c'è il baffo E noi Grazie al cazzo Faccio un Hai capito subito Eh sì, va bene Quattro ce ne sono No, tu mi devi far capire Scusami Vabbè, tocca a te, dai Poi dico Quello che sto pensando Vai Che cos'è? Che cos'è? Ma che cos'è? Eh, ha perso tutti I emotivi Scusa Ma ti faccio tanto una foto Ma questa è veramente Stupida La dovremmo fare io Che cos'è? È l'isola di Pasqua È l'isola di Pasqua Stavo dicendo che Non la volevo fare io Perché il naso tuo È molto simile Quindi da avessi dovuto farlo Parlo penna di pinna Io ho trovato Peccato che non possono vederti quello che stai facendo Dai Sembra una gallina Aspetta Dove stanno le galline? Ma ho capito Ti aiuto anch'io Com'è? Non è che scorreggio Dentro me questa Non fa parte No Negli animali E questo sarà ben capito Quindi l'emotico è stato girato come stai tu Giusto? La gallina non è È di profilo Esatto No Così L'ho fatto E tu sei uguale a questo Ho capito Lui Il topino La scimmietta Che topino Ah la scimmia Ma sei sicuro che è una scimmia? Sì Guarda Una scimmietta Ma rifammela Allora tocca a me Tocca a me Vado? Vai Che cos'è questa cosa? Cioè questa è la faccia? Questa è la musica Ti faccio vedere? Dai che facilissimo Sì Immagino Poi la tua interpretazione Ci sei? Te la devo rifare per caso? Sì rifammela Perché Perché fai gli occhi sbarrati? Ti fai paura? No perché c'entra Non è per niente D'aiuto Madonna Non è sputacchiato Dall'acqua Non è per niente D'aiuto D'aiuto Ti dico la sezione Dove l'ho visto No Non l'avevo detta Bugellina Aspetta Non mi ricordo manco Dove sta Questo Dove sta La Guarda che è muta Sì Ma che cosa è? Che miti L'hai indovinato Ma perché ho visto la sezione? Tu come lo faresti? Sì Un paralitico Perché guarda Perché Scusa Guarda come c'è il braccio Sì sta notando Sì ma l'altro non si vede Dall'altro braccio non si è fatto così Ho capito Ma devi fare così Un altro braccio non ci sta Vabbè hai ragione Attacca a te Attacca a te No tu stai spiando Non devi spiare Vai Ecco l'altra Ma tutto il corpo Devo vedere Solo la faccia Solo la faccia Oh le uniche faccine Con la lingua da fuori Sono queste Queste qua No Ti aiuto? No Il settore è quello sempre degli animali Ormai Gettonatissimo Ah il cagnolino Oddio Vuoi com'è? Tu sui mutatori sei specializzata Soprattutto Parapentici Stai a spiare Che cosa sto vedendo Perché se ti faccio questa Tu non la indovinerai mai Mai Ma non può Con la tua bellissima imitazione Sì Straordinaria Basta ora te la voglio fare Sei pronto? Vai E questo Questo sta così Questa è cos'è la mano? Sì La zampa? No Non è una mano Sarebbe? Ho detto che non lo indovinavi mai E c'è entrato il corpo Sì E sta così Sì Sta così Ma fammi vedere meglio Ma sta così Ma che cos'è? Ma che cos'è? Già ti ho aiutato E ti ho detto mano Un aiuto Guarda Di quelli Proprio Non è lì Non è lì Non è manco lì Non è manco lì E se non è lì Ne manco una sola Ne manca Che non hai cliccato È esclusione E vai Cazzo Che guarda Non posso immaginare Quanto sarà stupida Questa cosa No Dai che c'eri quasi Muoviti Non bisogna capire Se è il divieto Di buttare le carte O la possibilità Di buttare le carte Cioè veramente Io ti ho fatto Credere che sia un divieto? No perché Come fareste Fammi capire Che ho detto Così sarebbe il divieto Ho capito Quindi è questa qua praticamente Sì E G Uo 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 Veramente Un'ottima interpretazione Non saprei fare di meglio Veramente Dai ci sei? Un'ottima Buonanotte Fatto già? Ma perché fai le emoticon face? Che capisco subito Quelle Ridi o non ridi? Fammi capire Non devi ridere Ma non devo ridere Non devi ridere Quindi se non devi ridere Questa? No E fai E mo? Come fai invece? Ah allora quella triste Questa? No Ti chiama il gioco Chi ride subito? Il gioco Chi ride subito? Ah che tu ti guardi? Il gioco del silenzio Ribambito No E il gioco di chi ride prima Che tu stai così Fermo e immobile Chi ride prima verde Dai vai Ma questa è una challenge Nella challenge Dai Aspetta Io poi parto subito No vabbè Ma non mi devi usare le mosse Non funziona Devi barare Chi è che sta barando? Muovere Ti muovi il naso E che fa? E muovo le dette Ah è questo allora Quale? Questo No Hai fatto Ti rendi? No Devo trovare chi è Non si arrende E che vuol dire che Non lo so Dimmi qual è Si arresa? Si Io mi arrendo Paolo mi sono arreso Mi arrendo Sono io la più forte Eccola qua E ma minchè senza bocca Tu hai fatto che la bocca Cancellare Così Io capisco che non c'è Accomi Tu mi fai così Io capisco che c'è la bocca triste Ma che cacchio Ma che cacchio Di emoticona quattro soldi Tu hai messo quello Della paraplegico E ora domina Dai vai Spara Perché Le maschere del teatro Rimbampite Ma perché lo fai? Allora non voleva Questo No Devi mettere questo No E poi ci sei rimasto pure male Dai E non spiare Ok Pronto? Dai La magia sta per avvenire E come c'è questa magia Ma che cos'è? Wow Dai Indovina Ma se te lo fai là io come faccio a vederla? Ma questo è di profilo Di profilo? Ah la cosa è di profilo? Il cinghiale Cioè è proprio Questo è il cinghiale Non è quello Questo è il cinghiale Non è quello che ho fatto io Il mio cinghiale è una razza diversa Una razza a parte Maledetta Guarda Guardami l'espressione Non è che fai il cinghiale adesso? Guardate bene da casa Io mi ci metto a fare queste cose Tu fai le spi... No scusa non l'ho visto bene io Ma sta proprio così come stai tu? Non è che c'è qualche cosa che manca E tu l'hai messa no? No No Quindi sta con gli occhi di lato Sì E questa? Non è arredo Pizzicaccusa Nel montaggio mi devo ricordare tutte le modi Con che abbiamo indovinato Sì che ve le ricordo Tutte quelle che ho indovinato io Sezione animale Ma ormai è quella la tua sezione Ah il sole Questo O la luna Che cazzo è? Quella? Sì Eh sì bravo Ho visto L'indominato subito E la luna o il sole? E la luna Ah ok Ora tocca a me Fa la difficile per piacere E fai una buona imitazione Perché sei proprio pessima Io? Sì Va bene Oh Ma devo spiare È involontaria la cosa Ok Dai te la faccio facile Non è difficile Sì sì Allora So già che non hai polipo È vero Come cazzo hai indovinato? Come hai fatto indovinato? Perché non lo farai io Mi sto proverando a fare No 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 Non vale È troppo bello Però se avessi fatto così Avresti indovinato Ma questa non la Penso che non la indovinerai mai Eh Dal busto in su Ho indovinato già Ti dovevo sommentare e vedere Che cos'è? Un attimo Di che cos'è? Di che cos'è? Non lo su Ti faccio vedere I tiri Sto arrivando Un attimo Eccola qua No 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 La faccia non c'entra niente Nell'emotico non c'è la faccia E che cosa c'è? Un cerchio? Sì Mi dice a me la sezione brutta di bambino La macchina Eh, l'ho trovata Però è troppo semplice così Tu mi hai risposto Non è proprio così semplice Guarda, sono già che è lontano anni luce Da quello che tu Allora, cosa c'è nelle emoticon che sto rappresentando? Lo descrivi Una faccia No, ho detto che la faccia non c'entra Un cerchio E poi? Una cosa dritta Due tette No, ditta, quindi? Un joystick Il joystick è una cosa dritta È un cerchio? Eh, tu che dici? Quello non è il joystick È il puntino della mappa Ah, hai ragione Tutto il giorno tutto questo No, no, hai fatto bene Tutto questo è ugualissimo Passerà, passerà Ah, buono, lo so Praticamente si è interrotto il video Non sappiamo Se tu hai capito Cioè, tu hai Perché stai parlando così? Tu hai capito? Cioè, se la videocamera ha registrato quello che stiamo facendo Quindi ora Comunque, ve lo anticipo io Ho indovinato come al solito No, non hai indovinato Ho detto che era un joystick Il simbolo? Ma il simbolo era quello Non era un joystick Ma è quello il simbolo È indovinato comunque No, tu hai detto che è un joystick Con il simbolo Sono qui Bebe, sei? Sei qui Ecco, così dovevo fare Sei qui È disarmante, veramente È disarmante la tua imitazione Come devo parlare Guardi della tua Che non c'era la bocca E facevi Fatto così E beh, quello vuol dire Che non c'era bocca? Certo Ma nel caso Io ne faccio un in più Allora, spera Perché questa la indovini subito Puzza di fregatura No, ma va Ok Allora, questa prende tutto il corpo Eh Però loro non potranno vederla Eh, io invece sì Anche se uscirò fuori fuoco Qua c'è Ok, ci sei? Vai Tanto ti guardi di là Sì, sì, ti guardi là Che cos'è? La coccinella è No No Il ragazzo deve muovere così Il granchio Non è il granchio Come si muove? No, basta Vediamo il reparto animali Non è il reparto animali Questa non ti aiuto Non ti dico nemmeno la stessa Ok, allora Vi devo mostrare una bella mezz'oretta Eh, che indovini Sai che facile È questa Yes Della Tari Del gioco della Tari Il giochettito pixelato E com'è che cammina? Eh no, vabbè No, non lo faccio di nuovo Che tt si muove così, no? Si muove in orizzontale In orizzontale, va bene Va bene Noi abbiamo finito Non so chi avrà vinto dei due Questo altro pezzettino di dignità L'abbiamo buttato alle ortiche Devo dire che io sono stata bravissima Anche tu Soprattutto Sì, sì Sì, sì Especialmente il paraplegio Che sembra un notatore E niente ragazzi Questo era il nostro video challenge Non c'è un vincitore Diciamo dai Quando perdo io Non c'è un vincitore Ora c'è da lanciare la sfida Provateci anche voi da casa E mandatecivi una foto Di come avete fatto Le vostre emoticon Come fai? Eh, pubblico Ah, tu dici l'emoticon Nella faccina a fianco Esatto Sì, mi piace Ti dico Non so che ti piaccio Non c'è bisogno di più E niente ragazzi Questo era il nostro video challenge Appunto Mangiatevi Mangiatevi una foto E mandacela E manciatela Mangiamocela Mandateci la vostra foto Magari su Facebook Su Google Plus Dove volete Su Instagram Anche bravo su Instagram E niente Mandateci Mangiateci Ma perché? Mangiateci una foto Mangiateci una foto Mangiatecela Ho fame Ho detto che devo andare a cenare Ti è scattata la fame Ho capito Vabbè comunque Chiudiamo questo video Perché è una mezz'oretta Che stiamo provando Mandateci questa foto E non mangiateci nessuna E io le pubblicherò Nel prossimo nostro challenge Nel prossimo Magari su Instagram Taggateci con L'hashtag Paolo Pamela Emoji challenge Troppo lunga? Sì Troppo lunga Paolo Pamela Emoji challenge Mangiatela Mangiateci una foto Ma ecco Mandiamo Mandateci la foto Con l'hashtag Mangiateci una foto Ok Bellissimo Mangiateci una foto Mangiateci Mi raccomando Italiano perfetto Noi la vedremo La stamperemo E la mangeremo E faremo Un challenge Mentre mangiamo Le vostre foto Chi le mangia Di più vince Sì esattamente Vince un bel ricovero L'ospedale Esattamente Ma tanto vinco io Come sempre Beh Vabbè ragazze Passerà anche questo Questo è tutto Tutto quello Che potevamo fare Perché Ci siamo sputtanati E niente ragazze Aspettiamo la Mangiateci foto Hashtag E noi ci vediamo Al prossimo challenge Ciao Ciao Io muo